Appuntamento alle 15.30 al Fortino Sant'Antonio, prima l'appello, poi la divisione in gruppi, quindi al via le prove di una piccola parte dei figuranti che sfideranno in corteo per la rievocazione della storia di San Nicola. Saranno circa 600 quest'anno le persone che comporranno il lungo serpentone che si snoderà per le strade del centro cittadino. Il direttore artistico Nicola Valenzano li chiama per nome, conosce ognuno di loro, la maggior parte è composta da veterani e tra un richiamo e una battuta si va in scena. Collezionare le presenze all'interno del corteo è un motivo di vanto, ciò che lega ognuno di loro è la devozione a San Nicola. Quest'anno sono 27. Sempre nello stesso ruolo? No, ho fatto diversi ruoli per diversi anni. C'ho il voto di San Nicola e l'ammiro proprio. La devozione si fa solo per devozione, sono tutti uguali San Nicola secondo me. Abbiamo iniziato così per gioco, poi è entrato proprio nel cuore. Emozioni, emozioni che lo senti proprio nel cuore. Sono 55 anni che io faccio San Nicola, cominciando da quando andavo imbarcato. Io sono legato a Bari, a San Nicola, le tradizioni, quindi lo faccio con la tradizione nel cuore. E c'è anche chi ha la sua prima volta e lo fa per amore. Io vengo da Caserta. E io da Bari. Spilerete insieme? Sì. Spileremo insieme, sì. Non avete litigato fino a questo momento, no? Insomma, un po' sulla pronuncia, sì, perché il barese non lo sa bene, bisogna rafforzare. Contiamo di litigare dopo il corteo. Adesso lo testiamo subito. San Nicola mi miraculus, rapa la porta a Cile, te ne chiusa. Un po' di campano si vede, però lo proveriamo. È neomelodico, è neomelodico, è neomelodico.